c'è la mano c'è la mano c'è la mano tutti fuori sono dove va chi ha il balcone la casina col balcone quello là è un accappatoio ci sono le piscine è un accappatoio prima che abbiamo capito dove eravamo alla cabina ci hanno detto un giorno ma ogni tanto sbagliavamo strada è un accappatoio 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 sembra che vanno i caraldi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.